Ma come può Renzi vantarsi di aver abolito l'articolo 18 in un mondo del lavoro così precario, si chiedono nel Movimento 5 Stelle? E come può pensare che non si capisca che anche la sbandierata abolizione dei co-co-co è pura propaganda? È una presa per i fondelli il fatto che dica che ha abolito i co-co-pro, i co-co-co. Perché se tu, come ha fatto Renzi, prendi il contratto a tempo indeterminato e lo fai diventare determinato, a quello che era determinato, togli tutte le garanzie, è logico che il contratto più precario non ti serve più. Ne vedremo gli effetti tra un anno, prevedono dal Movimento di Grillo, quando nessun giovane avrà più la possibilità di prendere un mutuo.